No, è che è scociso piano, tra un pochetto senti quello che dicono, quello che fanno quelle campane. Io avevo deciso di prendere dei bei mattoni così e sfondagli tutti i vetri, però ho detto che faccio? Vado contro un'istituzione, vado contro la legge, poi mi vieno per matto, non è che mi mannero in galera, mi mannero in manicomio. Allora ho evitato, perché questo? Perché tu sei del sardo? Perché tu lo fai come le pare? Lo fai apposta? Molti bambini che abitano qui intorno amano le campane e quindi i genitori li fanno affacciare per vedere le campane che suonano, proprio qui di fronte. Grazie a tutti.